E bella a tutti ragazzi, sono Girobrega e sono qui oggi a portarvi la nuova probabile sfida perché sto cercando di fare il video prima che escono le sfide perché ho cercato un po' su internet e ho visto che alcuni ne hanno già fatto uscire in inglese e ho pensato che magari può servire anche a voi vederle magari prima che fossero uscite e la prima che voglio portarvi oggi è di trovare il tesoro e c'è solamente scritto cerca tra tre barchette in teoria poi non so come uscirà la sfida purtroppo io il gioco non mi fa cedere perché in teoria dovrebbe essere sotto manutenzione quindi io però sicuramente vi metterò degli spezzoni di altri video in inglese ma solamente per farvi vedere dove probabilmente è vi dico solo che in teoria il posto giusto è nella parte centrale di Loot Lake dove c'è la casettina e la parte sotto dovrebbe esserci un'entrata per entrare nella caverna della casettina di Loot Lake però in teoria dovrebbe essere lì fuori adesso probabilmente vi metterò proprio la parte giusta in cui lo mostra fatemi sapere se anche voi avete il pass battaglia io ce l'ho sono contento di averlo preso perché mi piacciono abbastanza le skin non sono bellissime però alcune sono veramente carine tipo John Wick o anche quella dell'87 poi c'è anche la cosa robot che mi piace veramente tanto raga probabilmente adesso vi farò vedere anche i 5 posti dei tacos quindi se volete completare anche quella sfida lì andate nel prossimo video che potete farvi qualche sbirciatina se non sapete le posizioni se le sapete già allora se vediamo ragazzi lasciate un bel like, condividete il video e raga lasciate un commentino ci vediamo alla prossima bella ragazzuoli